È assolutamente considerato ormai da vicenni una variante naturale della sessualità e dell'affettività. Ecco perché è importante lavorare sulla conoscenza, perché attraverso la conoscenza si abbattono i muri, si identificano chiaramente quelli che sono gli stereotipi, si vede la realtà per quella che è e quindi si riesce a combattere i pregiudizi ed eliminare le discriminazioni. Ecco un'ultima battuta su quella che è stata la protesta che c'è stata questa mattina da parte di Forza Nuova e di alcuni studenti contro le famiglie arcovalenti. Cosa volete rispondere? Che la famiglia è dove c'è amore. La capacità genitoriale non ha niente a che fare con il sesso e quindi per essere di buoni genitori bisogna avere capacità di accudimento, di sostegno che comincia quando decidi di essere un genitore e te ne assumi questa responsabilità e va avanti per tutto il resto della vita senza mai finire. Grazie mille. Come si chiama? Nome e cognome? Io sono Milena Quercia e sono presidente di CERN. Grazie mille. Grazie a voi.